Tari Sociale è la misura concepita dal comune della città dei Trulli che strizza l'occhio in particolar modo alle famiglie riducendo l'imposta sui rifiuti. Meno 50% della quota variabile per i residenti con in sé non superiori a 12.000 euro e per i nuclei familiari con portatore di handicap a cui si applica un'ulteriore riduzione del 20% per chi usa la compostiera per il rifiuto organico. In via sperimentale i cittadini che adotteranno un cane oggi ospitato nel canile comunale non pagheranno la Tari per un anno. Questo provvedimento nasce da due idee fondamentali. La prima è quella di togliere ovviamente l'animale da una situazione di reclusione all'interno di un canile. Sono cani che a volte hanno anche delle problematiche di salute e quella di dargli poi una casa delle persone che sono disponibili ad accudirli. L'altra cosa è di risparmiare quel costo che noi abbiamo nel pagare la diaria del canile e invece di destinarla alle famiglie che in qualche modo ci vengono incontro. Quindi è un baratto tra cittadini che si rendono conto che c'è da mettersi a disposizione.